ciao ben ritrovato da parte di alessio menconi sono davvero felice di farti conoscere le grandi novità del mio sito jazz guitar studio un abbonamento che ti permette di studiare a casa tua attraverso il mio materiale didattico ma nello stesso tempo di essere seguito e di avere un'interazione con l'insegnante che sono io ti spiego subito di cosa si tratta il percorso didattico è ideato e certificato da me e non lo trovi da nessun'altra parte in quanto è assolutamente personale ed è suddiviso in tre livelli anzi quattro beginner intermediate e advanced oltre a il nuovo corso the jazz guitar starter per tutti coloro che sono a completo digiuno del jazz le routine sono state ideate in modo da ottimizzare il tempo che sappiamo essere un nostro nemico chi ha famiglia chi lavora chi studia con poco tempo a disposizione riusciremo comunque a concentrarci su esercizi specifici e funzionali che ho creato proprio per studiare la chitarra jazz ogni mese avrai una serie di esercizi nella tua pagina con video pdf metronomo basi e tutto ciò che serve per studiare e se alla fine del mese sarai in grado di svolgere alcuni esercizi da me indicati puoi proseguire con il mese successivo i feedback personalizzati sono una delle cose fondamentali di questo nuovo abbonamento infatti alla fine del mese puoi inviare un tuo video semplicemente trascinandolo come vedi in una cartella che solo tu potrai vedere e arriverà in automatico a me dopo questo video io ti risponderò con un ulteriore mio video registrato solo per te e quindi avrai ogni mese delle indicazioni specifiche su tutto ciò che farai al meglio e tutto ciò che invece potrà essere migliorato con la nostra community sarà inserito nelle room private su discord dove potrai assistere a lezioni parlare e soprattutto suonare con gli altri allievi e studiare in tempo reale sia con me che con i miei tutor oltretutto potrai ottenere materiale esclusivo che ogni mese aggiungeremo ai tuoi corsi ci saranno anche delle dirette che farò per tutti gli allievi ovviamente dirette private solo per gli iscritti e anche questo è un altro punto fondamentale innovativo di questo nuovo abbonamento nelle dirette parleremo dei vari corsi di tutti i livelli e soprattutto potrò rispondere in tempo reale a tutte le vostre domande andando avanti con le tue lezioni poi se vorrai continuare a studiare con me passerai tranquillamente al livello superiore ad esempio partendo da jazz guitar starter passati i mesi e il test arriverai direttamente al beginner e finito ognuno dei livelli potrai avere dei singoli attestati di partecipazione firmati da me quanto dura l'abbonamento non ha una scadenza i singoli percorsi didattici sono predisposti per avere una durata di sei mesi dal punto di vista accademico tranne l'advanced professional che dura 12 mesi se ad esempio parti da jazz guitar starter una volta eseguito il corso correttamente potrai andare direttamente al livello successivo in automatico finalmente non sarai più solo nei tuoi studi e potrai ottimizzare al massimo il tuo tempo ti aspettiamo in classe ciao 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 ciao